lodovico ferrari fu un noto matematico italiano che visse dal al esso nacque a bologna il febbraio cresciuto nella casa paterna dopo la morte del padre visse con lo zio il cugino luca che andò a lavorare a milano come servitore di gerolamo cardano dopo qualche tempo però luca ritornò a casa senza il permesso di cardano e il padre poiché lo voleva ternere accanto a sé al suo posto mandò lodovico nonostante il ragazzo fosse piuttosto irascibile infatti a soli 17 anni aveva perso le dita della mano destra in una rissa cardano vedendo che sapeva leggere e scrivere lo rese suo segretario e gli diede lezioni di matematica tanto che ferrari a soli 18 anni divenne insegnante poi nel 1541 cardano si dimise dal suo incarico alla fondazione piatti di milano cosicché il suo lievo dopo aver sconfitto l'avversario zuanne da coi divenne pubblico lettore di geometria ferrari ricambiò la generosità del suo creatore aiutandolo nei manoscritti e difendendolo dalle accuse del collega tartaglia che fermava di aver rivelato cardano sotto giuramento di segretezza la formula risolutiva delle equazioni di terzo grado tuttavia nel 1540 ferrari incoraggiato da cardano era riuscito a risolvere l'equazione di quarto grado basandosi proprio sulla soluzione di tartaglia nel 1543 cardano e ferrari si recarono a bologna per incontrare annibale dalla nave esso disse loro che il suo mestro scipione dal ferro aveva vent'anni prima trovato la stessa soluzione di tartaglia il giuramento dunque non aveva più valore e cardano poteva pubblicare entrambe le soluzioni nella smagna nel 1545 a questo seguì l'accusa di plagio di tartaglia che fu invitato da ferrari ad una pubblica disputa di matematica tra il 10 febbraio 1547 e il 24 luglio 1548 i due si scambiarono 12 cartelli di sfida fino a che per poter ricoprire un importante incarico tartaglia accettò la disputa ebbe luogo il 10 agosto 1548 nella chiesa dei frati zoccolanti a milano sotto la direzione del governatore don ferrante gonzaga tuttavia tartaglia si ritirò la notte del primo giorno consapevole della superiorità dell'avversario che così ottenne la vittoria da quel momento ferrari ricevette moltissime richieste di lavoro tra cui l'offerta di fare da precettore al figlio dell'imperatore a cui però preferì la carica di funzionario del fisco per gonzaga successivamente ritornò a bologna nel 1565 dove visse con la sorella vedova maddalena e fu chiamato alla cattedra di matematica dell'università purtroppo morì il 5 ottobre di quell'anno probabilmente avvelenato dalla stessa sorella che non si presentò al funerale e si risposò due settimane dopo trasferendo al marito tutti i beni del fratello questa è una raccolta dei cartelli che si scambiarono ferrari e tartaglia la scoperta più importante di ferrari fu sicuramente la risoluzione dell'equazione di quarto grado quadratica del tipo x alla quarta più 6x alla seconda più 36 uguale 60x che fu inserita da cardano nell'opera ors magna insieme ad altri contributi del suo allievo riguardanti però l'equazione di terzo grado ax alla terza più bx alla seconda più cx più d uguale 0 infatti nel capitolo 15 decubus et quadratis equalibus numero cardano tratta delle trasformazioni radici reciproche attribuendo nel merito a ferrari come fa nel capitolo 17esimo per le sostituzioni razionali che permettono di trasformare l'equazione cubica completa in un'altra equazione cubica equivalente priva del termine di secondo grado sempre trovati da ferrari sono poi un caso particolare delle trasformazioni a radici aumentate ars magna aritmetiche e un'osservazione meccanica riguardante la genesi del moto rettilineo oscillatorio di un punto a partire da moti circolari altre sue scoperte sono contenute nei 31 problemi con cui sfidò Tartaglia presenti nei cartelli essi vertevano secondo lo spirito rinascimentale su 7 problemi di algebra 13 di geometria 7 di astronomia 1 di architettura e 3 di filosofia questa è una lapide presso il dipartimento di matematica in piazza di porta san donato a bologna dove viene ricordato il nome di ferrari riguardo alla bibliografia la sua opera più importante è sicuramente l'artis magne si vede regolis algebricis liberunos abbreviati in ars magne che ha scritto nel 1545 con cardano esaminando le equazioni di terzo e quarto grado e le loro soluzioni di ferrari abbiamo ancora i cartelli che ha scambiato con Tartaglia dal 10 febbraio 1547 al 24 luglio 1548 sono tutti scritti in volgare a parte il secondo cartello dove si utilizza il latino abbiamo oltretutto l'almenacco epimeri di sanni 1549 una con prognostico e diebus festis e altri due pregrammi uno in greco e uno in latino a bologna concluse dei manoscritti riguardanti questioni di cronologia questa è un'immagine del tramonto che si può vedere dal dipartimento di matematica è un'immagine del tram